Ciao Mideu, allora ci ritroviamo dopo qualche settimana che sei arrivato qua a Dubai, dimmi un po', qual è la sensazione di vivere qua, le differenze, cosa è cambiato, raccontami un po'. Vivere a Dubai cambia tutto, nel senso che la vita di prima è sicuramente completamente diversa rispetto a quella di oggi. Ho già trovato casa in un building, in un palazzo bellissimo dove ho piscina, palestra, sauna, lounge, tutto, quello che uno può chiedere ovviamente, quindi ovviamente dal punto di vista anche lavorativo, produttivo, di crescita come persona ho tutto per fare bene e quindi mi piace molto molto di più rispetto a prima sicuramente. Quindi l'ambiente ti sprona come pensavi, come si dice là fuori, la verità oppure non è così? Dubai ti sprona, Dubai ti sprona al 100%, perché hai una percezione completamente diversa, vivi con persone completamente diverse, è un ambiente potenziante, non depotenziante e sicuramente è un qualcosa che consiglio a fare tutti, chi ha la possibilità di fare, perché è qualcosa che ti cambia la vita veramente. So che stai preparando qualcosa da lanciare per il 26 febbraio alle ore 21, ho visto un po' di roba online. Vuoi anticipare qualcosa? Vuoi dirci qualcosina in più? Il 26 febbraio alle ore 21 sarà un lancio che cambierà secondo me il mondo dell'informazione, della formazione online, perché ci ho messo più di due anni e sei mesi di lavoro, dieci più ore al giorno costante per questo lancio e per quello che verrà dopo questo lancio e tutte le mie competenze, tutto quello che ho acquisito in questi anni l'ho voluto pacchettizzare in un unico giorno per dare la possibilità alle persone di, per chi vuole, perché non tutti vogliono, cambiare realmente la propria vita. Perché se non sei dove sei adesso è perché non sei la persona che dovresti essere e quindi ti mancano le competenze e io ti do tutti gli strumenti per poterlo fare. Questo è quello che succederà. Quindi si parla di formazione e ti chiedo perché sappiamo com'è la situazione adesso online nel mondo della formazione. C'è molto caos, definiamo così per semplificare. Differenza. Perché te e noi altri? Perché cosa ti differenzia da chi è molto criticato oggi per il mondo della formazione? Molto spesso possiamo definirlo un po' misleading, magari anche la qualità di quello che si insegna. Io penso che il mondo della formazione si è criticato perché se lo merita. Perché il 90% delle persone insegnano quello che non hanno fatto, ma quello che hanno sentito dire o quello che hanno sentito in giro. E quindi qua sta la differenza, nel senso che io non insegnerò mai a persone, a nessuno e non mi permetto di farlo, però è anche una questione di presunzione, cose che non ho fatto. Quindi ti posso insegnare come arrivare a 300k a mese perché con le mie attività ho fatto quello, non posso insegnare ad arrivare a mezzo milione, posso aiutare però tutti quelli che magari stanno iniziando o vogliono scalare le loro attività a questi livelli perché quello che ho fatto è quello che tutti possono provare che io abbia fatto ed è quello che ho contesto nel parlare, no? E quindi tanti invece, anzi il 90%, perché poi qua li conosci anche, no? tanti di persona, capisci se hanno competenze reali o se invece è tutta apparenza e purtroppo quello che si vede sui social, quello che si vede online è la realtà dei fatti, nel senso che tanti fanno misleading, tanti fanno promesse che non possono mantenere, tanti hanno prodotti scadenti ed è per questo che dopo un anno o due anni spariscono completamente dal mercato e qua purtroppo per fortuna ne ho conosciuti tantissimi e la differenza sta secondo me nel prodotto in sé, nel senso che se tu riesci a dare valore al mercato, il mercato ti dà indietro soldi in proporzione diretta in base al valore che tu riesci a dare. Cos'è per te il valore? Cosa sarà per te il valore in riferimento a quello che uscirà il 26 di febbraio? Allora il valore è molto semplice, puoi formare valore dal nulla risolvendo il problema alle persone e alleviando dolori, questa è la definizione di valore sul mercato, che ti compensa con soldi quando porti valore. Che cos'è per me il valore del 26 febbraio? È aiutare le persone che non hanno nessun tipo di competenza, come ho iniziato io all'inizio, nessun investimento esterno, nessun capitale e soprattutto hanno paura del rischio imprenditoriale che esiste per chi approccia modelli di business non funzionali, quindi voglio portare tutte queste persone ad avviare e scalare la propria attività e ovviamente chi ha un'attività libero professionista, un piccolo imprenditore italiano soprattutto, a scalare ulteriormente e delegare poi in un secondo momento la propria attività per slegare il tempo dei soldi, questo per me è il valore. Come lo faccio? Crendo un'offerta, portando traffico, fase di vendita, quindi processi di vendita, sistemizzare tutta l'azienda e delegarla, formazione interna, tutte queste cose qua che ti portano ad avere un'azienda che genera diversi milioni l'anno, che è quello che ho fatto io partendo completamente da zero, quindi niente di più, niente di meno. Allora, mi hai detto che sono due anni, più di due anni che lavori a questo prodotto, raccontami qualcosa di più su perché nasce questa esigenza di creare questo prodotto, è in riferimento al percorso che hai fatto, puoi aiutare qualcuno a non commettere i tuoi stessi errori, raccontami un po' perché nasce questa esigenza di… Allora, nasce perché io ho costruito attività negli ultimi tre anni e non ho mai rivelato nessuna tipologia di competenze riguardante gli imprenditori in generale e penso che sia il 90% delle mie competenze ad oggi. Quindi ho questo bisogno, che secondo me è un bisogno morale che io anche ho, di portare valore sul mercato aiutando le persone che realmente vogliono cambiare la propria situazione da un punto di vista economico, a risolvere i problemi che io avevo all'inizio e che ho risolto tramite competenza, facendo mille errori, vivendo periodi veramente bui e difficili, cose che si possono evitare con sicuramente un appoggio, una mano, competenza che ad oggi la gente non ha, per uscire da una situazione finanziaria che magari non gli sta più bene, come ero io all'inizio. Quanto, visto che si parla di formazione, di percorsi, di informazioni in generale, quanto studi te al giorno? Cioè hai una routine da questo punto di vista e poi quante ore lavori al giorno? Poi dallo studiare bisogna passare anche al fare. Hai un schema, hai un… Il mio rapporto con il lavoro è sempre aumentato con il tempo perché più vado avanti più mi rendo conto che il vero lavoro richiede sempre più energia e più focus. Quindi quando io prima pensavo fosse un'ora di lavoro, tanto, comunque ci ho messo una giornata a fare un prodotto, a fare un documento, a fare qualcosa e pensavo fosse tanto, questo prodotto ci ho messo due anni per farlo e sei mesi per metterlo insieme. Più di dieci ore al giorno tutti i giorni di focus. Focus vuol dire togliere il telefono, togliere qualsiasi distrazione, focalizzarmi soltanto su quello, senza fare call, consulenza e nient'altro. Quanto studio? Io tantissimo, nel senso che ogni giorno passo ora a studiare da altri formatori americani, spendo centinaia di migliaia di euro l'anno per formarmi consulenze, corsi, a mia volta, perché penso che le competenze siano fondamentali per arrivare a livello successivo, qualunque livello tu sia e se non le hai non puoi arrivarci e soprattutto devi diventare una persona diversa rispetto a quella che sei oggi per raggiungere risultati diversi rispetto a quelli di oggi e quindi per farlo hai bisogno di informazioni che sono informazioni che se non sai non puoi sapere e quindi l'ignoranza è il debito più grande che hanno le persone al 100%, non sono i soldi perché se tu oggi non sai fare un milione mese vuol dire che hai un debito di un milione mese ogni singolo mese, quindi l'ignoranza è il debito che voglio colmare prima sicuramente di qualsiasi altro debito e quindi mi formo, mi formo ovunque, leggo libri, ho letto più di 300, passa libri negli ultimi due anni, audiolibri, libri fisici, dedico ore e ore del mio tempo a lavorare su me stesso, sulle mie competenze per poi trasferirle. Adesso era lanciato il corso, era lanciato il 26, questo nuovo progetto, ma è un progetto che durerà anni, che io andrò a implementare, andrò a migliorare, nonostante ci abbia messo sono più di 120 ore di registrazione, 150 pagine scritte, materiali che nessuno ha mai dato, soprattutto nel mercato italiano, però non mi accontento da quel punto di vista perché le mie competenze aumentano e quindi a fine anno poi devono essere ovviamente implementate a quello che è questo progetto per dare sempre più valore al mercato. Quindi se un ragazzo di 25 anni ha il sogno, l'idea di costruire qualcosa, perché deve scegliere Medio? Perché deve scegliere ciò che stai creando e hai creato come percorso? Per il semplice motivo che ho sempre insegnato quello che ho fatto, punto, e quindi so esattamente non la parte teorica ma la parte pratica, infatti spiegherò esattamente quello che deve fare nel minimo dettaglio, è lì dove si crea il valore, perché ti posso dire una competenza in maniera superficiale, ma poi per applicarla c'è bisogno di molti più layer, se no molti più livelli di specificità, che è soltanto uno che l'ha realmente fatto può avere. Questo è il primo punto. Il secondo punto è una questione di qualità del prodotto secondo me, perché io mi sono visto intorno, ho comprato corsi ovunque in Italia e all'estero e sono consapevole del prodotto che sto dando al mercato e del valore che sto dando al mercato. Poi ovviamente abbiamo policy, abbiamo garanzia, abbiamo tutta quella parte lì da un punto di vista contrattuale, perché possiamo farlo. E quindi questo è il motivo principale per i risultati che abbiamo portato con le varie attività, che non sono mai neanche stati pubblicizzati fino ad oggi, perché tutte le competenze che avevo prima e che ho imparato negli anni non sono mai state erogate, diciamo, e in pochi possono dire, secondo me all'interno del mercato italiano, di aver fatto una cosa legit e aver ottenuto questi risultati. Quindi questo è il motivo. Qual è l'approccio che invece deve avere questo ragazzo per ottenere dei risultati? Qual è la consapevolezza che deve avere, l'approccio che deve avere nell'affrontare un percorso di questo tipo? Cioè parte, inizia, ok. C'è il corso, il percorso, studio. Ma intorno a questa cosa cosa ci deve essere? Allora, se pensi ad entrare e ottenere risultati dopo un mese, meglio che non entri, perché non funziona così. Chi poi ti fa credere, ti vuole far credere che sia così, non lo è. E quindi è un percorso di diversi mesi, è un percorso duro, non è semplice, perché devi studiare, diverse ore al giorno, però paga. Paga più di qualsiasi altra cosa che uno possa fare, perché le competenze, come ho detto prima, sono la cosa più importante che uno può acquisire. Ed è un cambiamento di persona proprio, perché la persona che inizia non è mai la persona che finisce questo percorso. L'abbiamo visto con diversi casi studi che abbiamo fatto, perché se non ottieni i risultati che vuoi ottenere oggi, perché non sei la persona che può ottenere quei risultati lì. Quindi è proprio un cambio di persona, non solo di imprenditore o di strategie o tattiche. È un percorso che ti porta ad essere una persona, di adesso, ad essere la persona che può raggiungere quei risultati lì. Quei risultati sono una conseguenza. Credi tanto in quello che è il potere di sentirsi già quel tipo di persona che si vuole diventare? Come si dice tanto in giro sulla legge e l'attrazione o la manifestazione? Credi in queste cose? Le applichi? No. C'è un capitolo dedicato soltanto a questo, perché è stata la svolta nella mia vita questa cosa qui. Non tanto l'immaginazione, perché l'immaginazione e la sensazione non portano a niente, ovviamente. Però anche da un punto, noi viviamo nell'universo che ha delle leggi universali che esistono da quando siamo nati e ci saranno per sempre. E tu come persona, come individuo, puoi convivere e utilizzare a tuo vantaggio queste leggi oppure ignorarle, no? E qualunque cosa sia presente davanti ai nostri occhi oggi, come questo microfono, come un orologio, come il tavolo, qualsiasi cosa era prima all'interno dell'immaginazione di una persona. E la stessa cosa funziona per le persone stesse. Io sono qui oggi perché mi sono immaginato sei mesi fa di essere qui. E qualsiasi cosa tu facci nella vita, prima la tua mente l'ha immaginata, perché è un processo di materializzazione di quello che tu immagini, universale, che funziona da sempre e per sempre funzionerà. Quindi puoi sfruttarlo o puoi ignorarlo. Ovviamente ci sono modi, step da fare per cercare di portare quello che è oggi soltanto la tua immaginazione a essere la realtà. Vuoi dire almeno uno? Certo. Sicuramente l'immaginazione è fondamentale, ma devi immaginarti non quello che vedrai, ma quello che sentirai quando otterrai quella cosa che vuoi. Ok. Perché tanti dicono, io mi immagino. Ok, ma cosa senti in quel momento? Cosa provi? Che emozioni provi? Perché così porti il tuo cervello e la tua mente a pensare a quella vibrazione. E quindi ti avvicini. Quando uno è un obiettivo, lo pone su un pedistallo, su qualcosa di irraggiungibile lassù, che facendo così purtroppo immaginandolo soltanto lassù, non lo raggiungi mai. Perché? Perché tutte le cose che raggiungi diventano la tua realtà. La tua realtà vuol dire la tua normalità di tutti i giorni. La tua normalità vuol dire che devi darle per scontate, perché tutto quello che abbiamo lo diamo per scontato il 90% delle volte. Quindi per raggiungere un obiettivo devi avvicinarti, sicuramente, e soprattutto avvicinarlo a quello che è la tua realtà, per poi viverla. Questo è un concetto che è un po' complesso da spiegare in due minuti. Infatti ci sono ore e ore soltanto su quello all'interno del percorso, però fondamentali. Io ho sempre raggiunto i miei obiettivi, dal primo all'ultimo. Ho sempre voluto però capire il motivo per cui li raggiungessi, perché facevo il possibile e poi li raggiungevo. Però non ho mai trovato una formula per avere la costanza di raggiungerlo e non il dubbio di fallire una volta. E l'ho trovata dopo anni di studio, un processo step by step che se applicato esattamente come viene spiegato, tu possa raggiungere qualsiasi obiettivo che tu ti ponga. Che sia arrivare a giocare in serie A, che sia cambiare totalmente vita, o che sia semplicemente fare i 10.000 euro al mese. Ovviamente devi essere costante, togliere il tempo come variabile, perché gli esseri umani sono ottimisti, troppo ottimisti per quanto riguarda il tempo. Mi ricordo quando dicevo, voglio raggiungere 10.000 euro al mese entro tre mesi. Entro tre mesi è quello che ti fotte. Perché poi, anche quando andiamo ad un appuntamento e diciamo sì, tra dieci minuti sono lì. Non è mai così. Perché? Perché siamo ottimisti di natura rispetto al tempo. E quindi togliere già quella variabile del tempo, sfruttarla in altro modo, che ti potenzia, ti aiuta, cambia tantissimo. Perché poi non raggiungi il risultato entro tre mesi e ti demotivi, molli, ed è quello che fa il 90% delle persone. Quindi bisogna essere più realistici, sicuramente. E mettere il cuore in pace, ma soprattutto riempire le giornate su quello che devi fare oggi per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Tanto fa il focus anche, tutta quella cosa lì. Invece, stanno uscendo podcast uno dietro l'altro. Idee su creare un podcast tuo, sempre ovviamente sul business? C'è qualcosa su cui... Farò un podcast mio, personale, con persone di livello, perché vedo tanti podcast con tanti ospiti un po' borderline, se vogliamo metterlo così. Io porterò soltanto imprenditori che hanno avuto successo e che hanno ad oggi successo. Sto parlando di imprenditori che hanno fatto exit multimilionari, sto parlando di imprenditori che hanno aziende multimilionarie, non persone che magari vedi sui social. Gente a cui non puoi arrivare da un punto di vista di social, di immagine, ma se hai contatti di un certo tipo, puoi. E sicuramente il valore che ti danno quelle persone lì, perché l'ho provato io sulla mia pelle, è completamente diverso rispetto a tutto il resto che c'è in giro. Quali sono i tuoi mentori? Italia, estero, in generale hai un mentore o un qualcuno che ti rappresenta? Ho dei mentori che ho conosciuto, dei mentori che non ho mai conosciuto. E il mentore a cui aspiro a diventare come persona è l'amedeo, ottantenne, che guarda indietro la vita e dice ho vissuto come ho voluto. Questo sicuramente è una cosa che mi fa riflettere tanto. La mia versione, ottantenne, no? Mentre che ho conosciuto tutti americani, principalmente, comunque nel mercato internazionale, in Italia, soprattutto nella nostra nicchia, nel nostro mercato faccio fatica a trovare qualcuno con competenze reali che ti possa insegnare qualcosa a questo livello. Da punto di vista invece internazionale, tantissimi, uno Luke Belmar, Alex Ormosi, Alex Becker, un sacco di gente che c'è, soprattutto mondo digitale imprenditori di un certo livello che hanno fatto svariati milioni. Uno di questi fa più di 200 milioni l'anno. Un altro ha un patrimonio netto di 50-60 milioni all'età di 26-27 anni. C'è comunque gente di un certo livello da un punto di vista digitale. Poi sicuramente mentori li acquisisco anche dai libri. Quindi dopo una volta che leggo un libro di gente che magari non c'è più ad oggi, che però ti puoi insegnare tanto. C'è un mentore alla fine qualcuno che ti insegna. Sicuramente con i libri è l'unico ponte che abbiamo da persone che non ci sono più alle informazioni che hanno dato, che possiamo leggere ad oggi e possiamo applicare ad oggi. Quindi sicuramente tanti mentori da un punto di vista di libri li ho acquisiti. E poi sicuramente giro il mondo e giro tanto adesso che posso per andare a mastermind, per andare a fare consulenza all'altra parte del mondo e conoscere persone di un certo livello che ti possono dare valore. Hai una previsione su quante persone parteciperanno il 26 di febbraio alle ore 21? Potete già fare una previsione su quante persone ci saranno oppure no? Sì, ci saranno più di 10.000 persone iscritte e ci saranno live presenti circa 3.500-4.000 persone. Questo perché, ritorno a quello che ho detto prima, che noi insegniamo quello che facciamo e questo lancio è la prova reale che quello che facciamo funziona. Perché se non sapessi portare traffico ad un'offerta che potrebbe essere il webinar, quello che spiego all'interno del percorso anche, che poi uscirà e tutto, non otterrai 10.000 più persone. Non faremo pubblicità con milioni e milioni di persone che visualizzano in Italia soltanto i nostri contenuti. Non avremmo così tanti iscritti ad un'offerta di questo tipo. E quindi il lancio in sé sarà la prova reale in diretta che tutti possono vedere per valutare la qualità di quello che dico e che quello che dico funzioni. E questo per me è importante perché nessuno lo fa. Pochissimi. Che tu riesca a valutare in diretta, in live, le sue capacità in base ai risultati che ottiene. Certo, nel senso tu mi insegni come creare un prodotto, fare un'offerta, generare traffico, tutta la parte di back-end, la comunicazione. Alla fine è quello che porterà queste persone a partecipare all'evento. Esatto. Infatti poi, ritornando al fatto di migliorare il prodotto, una volta fatto questo lancio, poi io ho già fatto lancio dove ho fatto più di 100.000 euro al giorno, per dire. Però questo sarà diretta e sarà live e di conseguenza quello che poi andrò a fare un caso studio su questo lancio e insegnerò a tutte le persone all'interno del percorso sa come fare lancio per la propria attività di questo tipo. Una volta che però ho fatto quello che dico di saper fare e tutti lo possono vedere, c'è la prova, capito? Che è quella la differenza. Certo. Quindi prima faccio e poi parlo di quello che ho fatto. Certo, lo faccio con te e poi ti mostro quello che è stato fatto. Esatto. Siamo partiti con la pubblicità circa cinque giorni fa, abbiamo raggiunto più di un milione e mezzo di persone nel giro di cinque giorni. Abbiamo portato più di 3.000 persone ad oggi iscritte, mancano più di 20 giorni al webinar e questa è già la prova che ti insegna come fare traffico, come portare gente interessata, potenziali clienti all'interno della tua attività, che sia nuovo, che sia da scalare, perché lo so fare e perché lo faccio per me. Tutte le cose che io faccio all'interno del percorso le faccio per me. Infatti tutti gli esempi all'interno del percorso sono fatti su di me, sulla mia attività. E di conseguenza è come replicare quello che faccio io in diverse nicchie, in diversi mercati e soprattutto anche chi non sa neanche cosa vendere online. Come io all'inizio ti spiego io cosa vendere, ti faccio vedere io cosa vendere, che mercato approcciare, che nicchie approcciare, come risolvere i problemi di una nicchia. Tutte queste cose vengono spiegate. Quindi non è soltanto per imprenditori libero più sinistri che ad oggi hanno già un prodotto da vendere. Ma è soprattutto per persone che non sanno assolutamente niente del mondo online e di cosa vendere online. Magari non hanno neanche competenze di prodotti e servizi. Perché anch'io inizio così. E ti insegno come costruire o delegare un prodotto a fornitore esterni o interni di un certo tipo, di qualità altissima, per dare valore al mercato. Se invece ti arriva una persona che ha già un'azienda che fattura tanto, sono tanti anni che è in piedi e ti dice dammi una mano a scalare questa attività, il corso non è qualcosa che fa per me, perché non posso oggi dedicarmi a quel tipo di percorso. Hai studiato qualcosa per quel tipo di target oppure no? Sicuramente posso aiutare gente che fa meno di 300 mila euro al mese, quindi fatturare tanto è relativo. Se sono sotto quella soglia posso aiutarli, se sono sopra no, ovviamente. Se si presenta a questo tipo di occasione ovviamente lavoro io in primis con loro, quindi gli spiego io esattamente quello che devono fare e valutando, facendo un'analisi della propria azienda, come fanno ad arrivare a questi livelli qua. Perché quello che ho visto è che ho notato dopo che le competenze puoi farlo in qualsiasi mercato, in qualsiasi nicchia. E anche lì c'è stata la prova, perché ho fatto consulenza per diverse aziende per fare questo lancio prima di parlare di queste cose qui, dove sono partiti da zero senza avere neanche un prodotto, o magari avevano già un prodotto ma facevano 10-20 mila euro al mese, pochissima roba, e ho scalato nel giro di due mesi l'attività a 150-200 mila euro al mese, replicabile in tutti i mercati, in tutte le nicchie. Cambia ovviamente la struttura, cambia ovviamente l'angolo, cambia ovviamente la comunicazione in base al prodotto o servizio che uno vende, ma le competenze sono le stesse.